Angeli Senza Frontiere e ODD, associazione di assistenza sociale e sociosanitaria da sempre vicina alle persone che soffrono anche di malattie altamente invalidanti e sbarcata a Pietrelcina. Da Bitonto in Puglia al paese natale di Sampio per regalare al comune San Nito un defibrillatore che è stato installato sempre dai volontari all'interno del comune. Questa mattina la cerimonia di consegna, soddisfatto il sindaco Salvatore Mazzone che ha accolto i volontari. Avevamo dato vita a questa volontà attraverso una delibera di giunta con il nostro assessore delegato per far sì che Pietrelcina diventasse anche una città cardioprotetta visto il suo ruolo, viste le tante presenze che ci sono nel corso di l'anno oltre a grandi eventi. Presidente dell'associazione Vito Plantamura, devoto di Sampio. Noi doniamo il defibrillatore, non ci limitiamo a donare il dispositivo DAE ma ci occupiamo anche dell'installazione di un palo verticale con segnaletica esterna e di realizzare all'interno un pannello illustrativo con una teca di alloggio dove appunto viene posizionato il defibrillatore. Un progetto che fa parte di una più ampia iniziativa messa in campo dal comune come spiega l'assessore alla sanità. Noi estenderemo a stretto giro entro il 15 aprile un corso di formazione per formare e riconoscere quelli che sono i primi sintomi in caso di arresto cardiaco e attivare tutto il protocollo di procedure per salvare una vita in caso di arresto cardiaco.